Amici di Endu Channel, in questa nuova puntata di Idee di Viaggio andrò ad incontrare François Gadel. Viene dalla Valle d'Aosta, più precisamente da Courmayeur. Ha una grande passione per la bike e da pochi anni ha scoperto l'e-bike e insieme a lui scopriremo un percorso all'interno della Valle del Grand San Bernardo e più precisamente da Gignot a Punta Chaligne, un percorso impegnativo ma che regalerà degli scenari mozzafiato. Andiamo insieme a lui a scoprirlo. Volkswagen Eccolo! Ciao Max! Ciao François! Ben arrivato! Grazie! Sei pronto? Sono pronto! Devi raccontare la tua idea di viaggio in Val d'Aosta. Ok! Ok? Va bene! Carichiamo la bici! François, oggi con te affronteremo un'idea di viaggio diversa dalle precedenti che abbiamo raccontato, che erano tutte basate sul trekking, sul cammino, su queste lunghe distanze affrontate però camminando. Con te invece oggi parliamo di bike, giusto? Perché la tua passione per la bike ha radici profonde, vero? Certo! La passione per la bicicletta è nata fin da subito, fin dai primi anni da bambino e pian piano l'ho coltivata fino ad avere la passione per le bike, la bici a pedalata assistita. Che i tuoi amici immediatamente quando gliel'hai proposto ti avranno detto ma come passi alla bici da vecchio? Esatto! Proprio quello, hanno detto proprio quello, hanno detto proprio così. Però poi nel corso degli anni tutti quanti hanno visto che comunque la bici a pedalata assistita mi permetteva di arrivare in luoghi che con la muscolare era quasi impossibile e piano piano si sono tutti convertiti alla pedalata assistita. Ma facciamo un passo indietro, perché ci arriviamo. So che arrivi da una delusione, in qualche modo, perché a un certo punto della tua vita hai deciso che la bike poteva essere messa in cantina per qualche mese ed usare le gambe per fare altro. Esatto! Infatti arrivo dalla delusione più grande che è stato il ritiro dal Tour de Jeanne, purtroppo è venuto a 90 chilometri appena partito. Che uno dice, sai, 90 chilometri di costa, però per il Tour è vero sei appena partito. Sono appena partito. Il Tour è una gara lunga 330 chilometri, io ne avevo appena fatti 90 e per un mal di stomaco ho dovuto abbandonare questo sogno, perché alla fine si tratta di un sogno. È l'impresa della vita. È l'impresa della vita, correre sulle due alte vie della Valle d'Aosta e portarla a termine in una settimana. Dove tu vivi, oltretutto. Io vivo in Valle d'Aosta, a Courmayeur. Quindi, accantonata alla tua delusione, abbiamo detto, vabbè, proviamo a rimetterci sulla passione della bici, della montagna, della natura, perché comunque vivendo in montagna non puoi solo pensare di lavorare, non andare a scoprire paesaggi. E poi è nata la passione delle bike, perché sì, stare in strada è comunque pericoloso, perché le strade sono quelle che sono. E allora mi sono lanciato in questa nuova avventura della bici pedalata assistita, così da ritornare in mezzo alla natura, fare comunque chilometri in mezzo alla natura, però tornare in cima alle montagne. Beh, immagino che la voglia sia anche perché tutte le mattine, quando apri la finestra, le montagne, le vevi. Le vedi davanti. Esatto. E quindi non dico che ogni giorno vada a cercare un percorso nuovo, ma ogni settimana con la compagnia di amici si organizza il giro, ci si confronta e si decide, andiamo lì, andiamo a vedere se è fattibile, e poi si prende e si va. Amici ma anche? Amici ma anche fidanzata. Che mi sembra sia... Eh, fidanzata è una super atleta. Esatto. Lei quando viene con me adesso usa la mia vecchia e-bike e praticamente la batteria lei non la consuma, perché... Perché le gambe, ne ha sufficienza con le gambe. Esatto, e poi è sicuramente allenata più di me. Perché lei è una nazionale di... Perché lei fa parte della nazionale di short track. Quindi tutto gambe. Tutto gambe. Tutto gambe. Quindi percorsi immagini in abbondanza, nelle tue zone, ma fruibili, facili da affrontare, nel senso sono adatti all'e-bike. La valle è grossa, ci sono svariati percorsi dal principiante, diciamo, all'esperto. E quello che ci racconti oggi qual è? Quello che vi racconto oggi è un livello intermedio. Perché comunque arrivi in vetta a 2.600 metri e da lì devi scendere per circa 1.100 metri. In un sentierino alpino, quindi con curve strette nel bosco e ci va un po' di tecnica. Tutto il giro è di quasi 24 chilometri, con un dislivello positivo di 1.100 metri, più o meno. Cominciamo a definire un po' di dettagli. Si parte da? Allora, si parte da Gignot. Gignot. Che è una località che si trova nella valle del grande San Bernardo. E si lascia al furgone, noi l'abbiamo lasciato a Grand Boutier, che è appena più sopra, che c'è il parcheggio comodo. Da dove parte questa poderale, che ci porta al rifugio Chaligne. Posizionato a che altitudine? Più o meno 1.900 metri, 2.000 metri quasi. Da lì continua questa poderale fino all'ultimo alpeggio e soprattutto al punto acqua. perché poi è fondamentale l'acqua, perché poi da lì in poi acqua non ce n'è più. E siamo intorno ai 2.200 metri. Terreno? Terreno, poderale, strada. Quindi anche il principiante fino lì non ha nessun tipo di problema. Da qui in poi inizia il divertimento. Perché il divertimento con le bike è anche salire, mettersi alla prova con il sentiero alla salita. Quindi si parte, si passa nei pascoli di alta montagna, c'è questo sentierino, noi lo chiamiamo single track. Classico? Classico, largo 30-40 cm, non di più. E però ci sono tutte le insidie, c'è la pietra, la curva stretta anche in salita, il pezzettino un po' più ripido. Quindi a volte si riesce a pedalare, a volte scendi e spingi e a volte bisogna caricarsela anche in spalla. Per fortuna l'e-bike ha una grande assistenza che si chiama walk, che è un aiuto. In pratica tenendo premuto il pulsante del walk i pedali continuano a girare, ti danno assistenza, quindi il pedale gira, la ruota posteriore gira come se tu stessi pedalando e la bici sale praticamente da sola. Non devi spingerla. Ti toglie tutto il peso della bici. Quindi sostanzialmente la parte più impegnativa ti porta ad affrontare gli ultimi 500 metri di dislivello, no? Esatto. Eravamo 2-2 dall'alpeggio, 2-7 il punto d'arrivo. Sì, 2-6. 2-6, ok. Quindi 4-500 metri ancora da fare su un percorso bello tosto, più impegnativo. Perfetto. La cosa fondamentale è portarsi dietro qualcosa da mangiare perché comunque fai fatica e il corpo ha bisogno di nutrimenti. Ma punti di particolare interesse durante questa salita o discesa anche? Cioè punti che bisogna assolutamente ricordare di fermarsi e ammirare. Beh, una volta che sei in cima, sei praticamente in mezzo alla valle quasi e vedi il Gran Paradiso, il Monte Rosa, il Cervino, la Becca di Nona. Hai letto niente? Eh no, infatti vedi i 4.000 della valle. Sì, però hai una giornata fantastica. Ma sicuramente quando verranno sarà una... Come è successo a noi. Esatto. Come è successo a noi che salendo sembrava estate pur essendo settembre. Arrivati in cima abbiamo avuto questa sorpresa che dalla parte della valle del Gran San Bernardo c'era il sole e si stava benissimo. Dalla parte verso l'oste c'era il mare di nuvole. Che ha però il suo fascino. Che ha però il suo fascino, certo. Però anche lì c'ha il fascino ma ti mette fretta. Perché in montagna, come sappiamo, il tempo cambia abbastanza velocemente. Quindi dopo che ci siamo fermati, ammirato, ho fatto 4 foto chiaramente come ricordi del giro. Mangiato e bevuto, cambiati, perché bisogna cambiarsi. È importantissimo perché comunque sudi. Temperature di discesa cambierà di calma, anche la percezione di temperatura cambierà di calma. Ripartire, nebbia, nebbia totale, bianco. Quindi bisognava fare molta attenzione a dove mettere le ruote e andare comunque piano rispetto a una giornata soleggiata. Certo. Poi sai, soprattutto come stavi descrivendo, no? Single track con strappiombo a destra e a sinistra, 30-40 centimetri di strada. Non hai margine d'errore. Non hai margine d'errore. Non hai margine d'errore. Non hai margine d'errore. Assolutamente, assolutamente. Questo però mi porta a pensare che sia una proposta di viaggio, un'idea di viaggio per persone comunque esperte. Quindi non sicuramente lo sconsigliamo agli offi. Non è il principiante, no, no. Assolutamente, non è il principiante. Può arrivare fino all'alpeggio seguendo la strada, poi deve assolutamente girare la bicicletta e tornare giù dalla strada. Chiaro. Come ho chiesto agli altri ragazzi, poi ti chiederò di scoprire cosa c'è nel tuo zaino. Quindi quello che non può mai mancare e che porti sempre con te. Va bene. Va bene? Sì. Allora, Francois, come ti ho chiesto, scopriamo cosa c'è nel tuo zaino. Casco ovviamente non può mai mancare, giustamente. Casco non può mancare, non deve mancare. Non deve, assolutamente. Soprattutto non deve mancare. Questo è un casco particolare perché ci puoi attaccare la mentoniera. Quindi c'è il doppia funzione. Mentoniera, casco integrale per quando si scende, quando si sale, casco aperto così si respira. Più comodo. Tasca principale, tasca degli attrezzi. Abbiamo le brugole. Ok. Le chiavi che possono servire in emergenza. Brugole torx. Brugole torx. Un cavo del cambio, che non si sa mai. Certo. La pompetta. Bella. La pompetta ad alta pressione che gonfia rapidamente. Io poi porto anche la pompetta per gli ammortizzatori, che non si sa mai che qualcuno magari deve regolare, non deve regolare. C'è delle toppe per coprire eventuali tagli sui copertoni. Un gonfio e ripara. Classico. Una corda. Sei un super tecnico. Lo smagliacatena. Lo smagliacatena che molti hanno, ma pochi sanno usare. Esatto. Caccia copertoni o leva copertoni. Quindi tutto il kit di attrezzi per qualunque evenienza. CO2 compressa, perché le gomme della mountain bike o delle bike, alcune sono dure, rigide. Quindi per farle tallonare è meglio la CO2 che gli dà la botta. La botta iniziale. E poi puoi usare. Esatto. Poi usi la pompa. Insieme allo smagliacatena, le false maglie. Che sono indispensabili. Che sono indispensabili. Tornare a casa, come si dice. Le false maglie, che però ogni catena ha la sua falsa maglia. Non sono universali. C'è la falsa maglia per la 12 velocità, 11, 9, 10, insomma quello che uno usa. Delle fascette da elettricista che tornano sempre utili. E un altro pezzo importante è il forcellino di ricambio. Ah. Per il cambio. Ah. Perché magari rompi il forcellino, ma il cambio è integro. Smonti il forcellino, monti il forcellino nuovo e puoi continuare il tuo giro. Complimenti. Super super organizzato. Organizzato. Quindi tutta la parte attrezzatura l'abbiamo scoperta. Ha portata di mano. Ha portata sempre di mano, ma dentro? Dentro abbiamo. Altre sorprese? Altre sorprese. Abbiamo, vabbè, il cambio. Con la maglietta di ricambio, un micro pile. Tutto quello che è necessario per non prendere freddo in discesa. Un'antipioggia. Certo. E a volte... Il beauty. Il beauty. Il beauty. Con all'interno... Fon. Fon. Creme. Contorno occhi. Esatto. Con all'interno il mio giocattolino. Il tuo giocattolino. Che non... Che è tanto amato anche dai nostri cameraman. Il mio giocattolino. E chiaramente quando vado a fare giri lunghi che porto anche il drone, divido il peso con la mia fidanzata Arianna. Perché non posso portare tutto io. Corretto. Lei, siccome abbiamo detto che è super allenata... Un po' più di peso a lei e un po' di peso a me. Assolutamente. Ci sta tutto. In questo caso ci sta tutto. Esatto. François. E per di più ho anche, nella taschina sempre a portata di mano, una GoPro e un'altra è annunista. Un 360. Un 360 perché rende meglio. Le immagini le catturo tutte. Non te ne scappa una. Esatto. Molto bene. Bravo. Complimenti. Grande organizzazione. Quindi hai tutto ciò che ti serve per andare a grande... Bene o male c'è tutto per tornare a casa. Per finire il giro e tornare a casa. Portandoti a casa dei bei ricordi. Esatto. Esatto. Perfetto. Ripartiamo? Ripartiamo. Andiamo. Grazie François di aver raccontato la tua idea di viaggio e di avermi aiutato a far passare questo concetto che è l'e-bike. Visto che tu sei un ragazzo assolutamente giovane, io invece ho una certa, da una certa generazione venga interpretato come una bici insomma per chi non ha più le gambe per poter pedalare. In realtà è uno strumento fantastico che ti permette di affrontare percorsi impegnativi che probabilmente con una muscolare sarebbero quasi irraggiungibili in qualche modo. Tu lo hai raccontato in modo assolutamente coinvolgente. Le immagini che abbiamo visto sono a dir poco emozionanti, quindi auguro a tutti di aver la voglia di venire ad affrontare l'idea che tu oggi hai portato nella meravigliosa Valle d'Aosta e magari chiamandoti anche per essere accompagnati da te, visto che fai anche un po' da guida. Esatto. Giusto? Esatto. Quindi veramente grazie ancora. Grazie a te. Ci vediamo in valle. Perché no? Una bella ride insieme? Certo. Ci sto. Grazie a te.